Liliana Cavani, un premio, il Sesterzio d'Argento per Romani si diventa, cos'è Roma per lei? Beh, è un mondo, non è una città, è un mondo veramente, perché c'è tanta storia, c'è il presente, c'è gente vivace, sveglia, circola tanta intelligenza, devo dire, più che al nord, secondo me. E non è mica poco avere una città che a duemila anni si sente, si sente, io ho incontrato tante persone intelligenti a Roma, particolari, quindi non credo che sia facile trovare un'altra città come questa, non so, forse è una mia illusione. Una curiosità, durante la premiazione ha detto che vuole assolutamente fare un altro film, ma di che film si tratta? Eh no, vabbè, questo rimane segreto. Me lo dice a videocamera spesa? Sì, sì, sì. Grazie, confio. Prego. Grazie. Grazie.